Anche la Valsassina è sbarcata al Festival di Sanremo 2024 e lo ha fatto con uno dei suoi punti forti, il cibo. Nel corso della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si è conclusa sabato, insieme al compartimento Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi, di cui fa parte, perfino una chef valsassinese originaria di Pasturo. Si tratta di Beatrice Bergamini, dell'agriturismo Prato della Chiesa di Balisio, che affiancata da altre cuoche provenienti da tutta Italia, ha cucinato per il secondo anno consecutivo per i cantanti in gara, per lo staff tecnico e per i membri della stampa. Durante i cinque giorni di Festival, ogni brigata di Casa Sanremo, composta da dieci persone, ha preparato una media di 200 pasti, sia a pranzo che a cena, ogni giorno reinterpretando i piatti tipici di tutte le regioni in chiave moderna. Casa Sanremo è l'area dedicata agli eventi collaterali del Festival, dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontrano, in cui si alternano interviste, talk show, conferenze, cooking show e tanti altri appuntamenti. Insomma, l'arte della musica abbinata all'arte della cucina, in un palcoscenico che ha visto protagonisti i profumi e i sapori della grande tradizione no gastronomica italiana, quella valsassinese compresa. Anche quest'anno sono stata quattro giorni a Sanremo, con un'altra settantina di mie colleghe Lady Chef e la nostra rappresentante nazionale Alessandra Baruzzi. Io e la mia collega Anna Maria Schettini rappresentavamo la Lombardia e l'Ecco. Abbiamo cucinato a Casa Sanremo, oltre che per i cantanti, anche per gli addetti ai lavori. Per me è stata sicuramente una bellissima esperienza, che se mi sarà data la possibilità l'anno prossimo, spero di riuscire a fare nuovamente. Grazie. Grazie.